Tre giorni a Sperlunga, a fine mese di aprile 2024, sulla spiaggia di Ponente. Lo scorso anno, bandiera blu. L'albergo del soggiorno è stato, come da diversi anni, le fiorelle, con le fioriture della primavera inoltrata. Il secondo giorno ci accoglie con mare mosso e cielo nuvoloso, per cui decidiamo di fare un salto a Gaeta e al borgo antico di Sperlunga. Nel porto staziona un incrociatore della marina americana, testimonianza della nostra incerta sovranità. Nel borgo di Sperlunga una piazza consente una visione a 360 gradi. Tra cui un'immagine spettacolare dell'antro di Tiberio. Dalla parte opposta, la spiaggia di Ponente si muestra in tutta la sua eleganza, con sullo sfondo il promontorio del Circeo. Inaspettatamente, lo sguardo viene attratto da un giochiello naturalistico, che poi ho scoperto trattarsi del lago Lungo. Uno specchio artificiale di acqua salmastra, alimentato da un canale di sbocco al mare. Il giorno dopo, decido di fare una passeggiata per osservarlo da vicino. Un percorso facilitato da una pista ciclabile, che costeggia un fosso pieno di rane. Alla fine della pista, ecco il lago Salmastro, con al centro un allevamento di mitili. L'ingresso è sbarrato da cancellate. Ci sono dei lavori in corso, attraverso le quali posso fare comunque delle riprese. Il lago si estende parallelo al mare, separato da una lingua di sabbia, coperta di vigneti e macchia mediterranea. Insomma, un luogo perfetto per chi ama dedicarsi al bird watching. E ci vorrei tornare il prima possibile. Alla fine della pista, ecco il lago in corso, attraverso le quali posso fare un po' di sbocco al mare.